La storia di Eli, quando lui era nato, è nato con una malattia molto rara, gli hanno perso le analisi da neonato, avrebbero dovuto trovare subito il suo difetto, invece questo resoconto ospedaliero è stato perso, questa cartella. Sono andato avanti e indietro all'ospedale tantissime volte e andai da vari ospedali per cercare di capire, quando finalmente riuscì a portarlo in un ospedale e mi ascoltarono morì e aveva solo 14 giorni, poi l'hanno risuscitato e ha avuto un sacco di danni, gonfiore del cervello, infezioni varie, ora ha 11 anni. La sua condizione si chiama galattosemia classica, è una condizione molto rara, molto severa, ho fatto tutti i tipi di terapia del mondo, sono andato da specialisti in tutti gli Stati Uniti, neurologi, specialisti di vari tipi, soggiorni di una settimana in centri specializzati, eccetera. Usava più di 50 pannolini a settimana, i dottori mi hanno detto che non avrebbe superato l'età di 4 anni dal punto di vista dell'intelletto, quindi non sapevamo più cosa fare. Abbiamo attraversato talmente tante situazioni con questo bambino e usava delle medicine molto pesanti, soprattutto per gli attacchi di epilessia. Non era capace di concentrarsi, continuava ad avere attacchi epilettici, non riusciva a farsi la doccia. Praticamente da quando si sveglia fino a quando va a dormire, devo stargli dietro. Non spegne le luci, non riesce a cucinare, non riesce a stare dietro alle cose. Finché abbiamo iniziato i Cerotti LifeWay. Usa solo X39 Eon, 18 settimane, quindi 4 mesi e mezzo al momento di questa registrazione. Da 50 pannolini siamo scesi a 3 o massimo 5 pannolini a settimana. Adesso vi racconto una lista veloce di cosa è migliorato. Allora, quindi solo pochi pannolini, si sveglia di notte per andare in bagna, non ha più attacchi di epilessia, non va più ai corsi di logopedia. Riesce a scrivere frasi, colorare, ci mette un po' a scrivere, a disegnare, ma lo fa, poi me le fa vedere. Si veste da solo, si fa la doccia da solo, è capace di preparare la tavola. Quando cerca di versare acqua o succo a sua sorella, lo versa dappertutto, ma perché è poverino, la sua è una condizione complicata. Ieri giocava a calcio ed è più o meno 150-200 metri la toilette dal campo di calcio. Non era mai capace di andare e tra l'altro non ha nessuna sensazione di pericolo e si perde molto facilmente. Ma mi dissi, lasciamolo provare. È andato da solo in bagno, tutta quella distanza, ed è tornato sul campo di calcio dopo aver fatto il suo bisogno. Fantastico. Mi dissi, wow, che bello, sta migliorando ogni settimana. Io sono così contenta, così euforica da poter portare questa lieta novella alle varie comunità di genitori che hanno bambini con bisogni speciali, perché i suoi cambiamenti sono talmente drastici. Avevo addirittura paura di condividere nelle prime settimane, perché avevo paura che mi sarei svegliata da un sogno. Invece le cose continuano. La sua nuova dottoressa, quando l'ho fatto vedere la documentazione clinica e l'ho fatto vedere il bambino, lei non credeva che fosse la stessa persona, era completamente scioccata. E io le dissi, sì, ecco quello che stiamo facendo con i cerotti, perché non dai un'occhiata a questa tecnologia? Perché questa tecnologia ha cambiato tutto per noi. Ho una domanda. Eli è capace di notare i cambiamenti nel suo corpo e nella sua mente? Sì, sì, e lo esprime anche. Lui mi dice, ad esempio, lui ad esempio dice, mamma, voglio fare pipì. Ed è una cosa che non mi aspettavo neanche. Magari i genitori di bambini lo trovano normale, ma per me era un miracolo quasi. Mi chiede sempre i cerotti, si ricorda anche di metterli e quando andiamo in giro lui dà i cerotti in giro alla gente. Recentemente siamo andati a un matrimonio e tutti i miei parenti e conoscenti sono scioccati quando vedono Eli. Ciao, ciao.